È chiaro che avviare una riflessione sull'uso consapevole delle nuove tecnologie e sui rischi della rete è un appuntamento cui la comunità scolastica non può sottrarsi. Ma mi piace ricordare che già da alcuni anni le scuole si stanno interrogando rispetto a questi temi. Con l'assessora Marano, prima dello scoppio dell'emergenza sanitaria che purtroppo stiamo vivendo in questi mesi, avevamo avviato una serie di incontri in presenza con gli studenti dove c'era l'occasione di confrontarsi su queste tematiche con genitori, docenti e gli stessi ragazzi. Partendo da un cortometraggio dal titolo Nativi Digitali, da me scritto e diretto, ci si interrogava sull'uso consapevole delle nuove tecnologie per cercare di comprendere insieme e come insieme saperci difendere da questo uso eccessivo cui siamo esposti. Desidero anche ricordare l'associazione Parteci Palermo che ha sposato la nostra prima iniziativa insieme all'assessora Marano. La pandemia intanto ci ha costretto a interrompere questi incontri in presenza, ma è chiaro che la comunità scolastica continua ad intervenire in tal senso. Infatti il 5 febbraio abbiamo programmato un incontro che metteremo a disposizione di tutta la comunità scolastica, durante il quale interverrà l'assessora Marano, avremo anche l'intervento dell'ispettore Lombardo, presidente del sindacato della Polizia e avremo l'importante testimonianza del dottor Picchio, padre di Carolina Picchio e l'intervento della Fondazione Carolina. Sappiamo che grazie alla lotta del papà di Carolina è nata purtroppo di recente una legge che ci dà la possibilità di difenderci dagli abusi che riceviamo in rete e quindi dagli abusi del cyberbullismo. Il progetto è realizzato grazie ad un accordo di rete di scopo che stiamo sottoscrivendo tra l'Istituto Comprensivo Arenella e l'Istituto Comprensivo Marconi Capofila, grazie alla collaborazione dell'associazione Incontro Senso. Speriamo di poter essere utili in questo incontro che darà la possibilità ai ragazzi di interagire in diretta con i relatori, tante altre saranno le iniziative nelle quali insieme cercheremo di trovare, non dico una soluzione, ma un punto di incontro per continuare ad essere responsabili della crescita dei nostri figli.